...e la modalità, specie nei confronti di tutti i bambini, crediamo nei valori della famiglia così come essere riconosciute nel nostro ordinamento costituzionale, e questo ci tengo a sottolinearlo, che rimane nucleo fondamentale della nostra società e primo in sostituibile organismo in cui il cittadino cresce, si forma e diventa uomo. Svilupperemo sempre di più servizi finalizzati al contrasto della libertà che anche nella nostra città sta crescendo in maniera abbastanza sostanziosa e per rispondere ai bisogni fondamentali di sostegno e di assistenza alle famiglie di difficoltà. Coimboggeremo sempre di più per far questo tenendo le organizzazioni di volontariato e le strutture che già oggi operano con tanto preziosismo e impegno a fianco e in collaborazione con i servizi sociali del Comune, in particolare perché questa è un'altra esigenza molto forte che si avverte nella città, in particolare metteremo la massima attenzione all'esigenza abitativa attraverso una collaborazione stringente e effettiva con l'adere di latine della Costituzione di nuovi alloggi.